Sì, 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 cosa è particolare? La prima cosa da fare, la prima cosa da fare è la danza. Sì, 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 sì! Dia, sì, sì! Per Schimuki, io, creo! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.